ciao buongiorno sono partito alle sette meno un quarto da casa e sono qua sul balbeg di lavoro di cora sosta ha mangiato due noci e adesso si riparte ciao 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 amica mia ciao bellombra siamo per arrivare a parcines e forse troveremo anche un caffè che sarebbe il secondo della giornata qua i bus aprono alle 10 e mezza incredibile non hanno voglia di fare una mazza dai arriviamo a parcines ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. È una meraviglia, sono a un quarto d'ora di macchina da casa, ma mi sembra di essere già lontanissimo. Ciao. Non è possibile, non hanno voglia di fare una mazza. Forse va bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Ecco, è arrivato il momento di prendersi cura anche dei piedi. E poi un po' di pane e pecorino. Ho passato per Cines. Grazie a tutti. 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 e piove inizia a piovere anzi a piove e piove Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.